Amati amici, qui è Alcazar, vi stiamo parlando dall'isola di Maui, alle Hawaii, e vi chiediamo di prendervi ora un istante per sedervi, mettervi comodi e ascoltare queste parole e soprattutto sintonizzarvi all'energia che vi stiamo mandando in questo momento, in questa trasmissione. Sintonizzatevi alle energie, chiudete gli occhi, state con noi nel campo quantico, ora. Noi siamo qui con voi ora, nelle energie di Maui, un luogo dove la connessione alla terra, la Aina, come viene chiamata qui, è ancora custodita da molti, la vibrazione della terra qui è ancora forte, nutriente, si prende molta cura. Come sapete, noi siamo venuti a Maui per creare due workshop, per ancorare in questo luogo le energie dei generatori quantici. Noi siamo qui per molte ragioni. Come sapete, Maui è stato il luogo in cui lo Stargate è nato, ma è anche molto altro, poiché fa parte delle terre di Lemuria. E una parte della nostra funzione qui è riportare all'umanità ciò che è andato perduto dopo Lemuria e Atlantide. Desideriamo riportare la connessione che l'umanità aveva con il campo quantico e con la propria supercoscienza. Forse non ve ne rendete conto, ma la connessione con la vostra supercoscienza è un filo sottile. Quello che desideriamo offrire e riportare all'umanità è trasformare questo filo sottile in una catena fortissima che non può rompersi, un percorso energetico che collega saldamente il sé umano alla supercoscienza e la supercoscienza al sé umano, così che la vostra parte umana possa conoscere la grandezza di chi è veramente, che già siete. Voi potete riconnettervi così al potere del vostro sé più vero, la vostra supercoscienza che è bellissima e vogliamo portare anche molto altro. Desideriamo aprire un portale energetico per così dire, un portale verso l'oltre, un portale per accedere per coloro che sono pronti, accedere ad energie ed esperienze energetiche meravigliose. Questo portale, che verrà condiviso con tutta l'umanità, permetterà alle persone sul pianeta di creare e manifestare e distribuire delle tecnologie che ancora non sono apparse qui prima d'ora. Tecnologie che possono accelerare il risveglio dell'umanità, possono accelerare la guarigione fisica dell'umanità e fare anche molto altro. E così, amati, vi stiamo invitando ad unirvi a noi mentre ci prepareremo nelle prossime settimane per i due workshop che terremo presto. Questa preparazione sarà energetica. Questa preparazione se voi mediterete con noi vi aprirà a ricevere il nuovo di cui vi stiamo parlando preparandovi a poter ricevere le energie che durante i workshop condivideremo con voi. E così vi invitiamo ad unirvi a noi con un cuore aperto e con una mente aperta poiché ciò che vi porteremo ha in sé un potenziale di grande gioia e celebrazione nella vostra vita. Siete pronti a scoprire chi siete veramente cioè a scoprire la vostra supercoscienza le energie che vi porteremo vi daranno supporto per attraversare il processo che vi abbiamo descritto per potervi connettere saldamente alla vostra supercoscienza connettervi in maniera più profonda all'energia di Gaia anche e amati. l'universo sta osservando e desidera moltissimo che la nuova evoluzione dell'umanità possa avvenire poiché in verità è questo che vi stiamo offrendo un aiuto per la nuova evoluzione dell'umanità volete farne parte volete far parte di aprire questo portale per poter condividere questo potenziale questo è un invito unitevi a noi per scoprire ancora di più chi siete veramente lo sentiamo vediamo dalla regione dopo poi la ti asci Jenny qui ci asci indirecta il personally questo questo cal'